Voglio parlarvi di Amedo Gianni, il primo calciatore africano a vincere il premio di capocannoniere nel campionato francese. Nonostante, prima di lui passarono giocatori incredibili come Larbi Benbarek, Rashid Meklofi e Njorea, ma non solo. Di cui parlerò poi in altri video, ovviamente, soprattutto di Larbi Benbarek. Amedo Gianni nacque nel 1937 a Philippe Vie, oggi nuota come Schickda, e lì, nella sua città natale, iniziò a giocare. A portare in Francia fu il Lenz nel 1958, il quale lo fece esordire subito in prima squadra, e lì vi rimase fino al 1965, segnando ben 121 gol, tanto da renderlo ancora oggi il miglior marcatore della storia del Racing Club de Lenz, e di giocatori buoni da quelle parti ne sono passati. Nel 1964 fu proprio quella la stagione in cui Eugiani divenne il primo africano a vincere il premio di capocannoniere, il Ligue 1, realizzando ben 30 gol. Dopo il 1965, Eugiani passò alla sua parte finale della sua carriera tra Racing Club de Paris, Cannes e Sedan, per poi giocare un biennio in patria, e giocare gli ultimi due anni della sua carriera, quindi dal 1970 a 1972, anno del suo ritiro proprio con il Lenz, club alla quale è stato molto legato e a cui ancora oggi è molto affezionato. I tifosi sono molto affezionati e viene ricordato tanto che ancora oggi il suo primato è rimasto imbattuto. Eugiani non gioca mai per la nazionale francese, bensì lo fece per quella algerina, che nacque nel 1962 dopo anche le grandi battaglie in patria che hanno voluto l'indipendenza, e grazie anche all'aiuto dal punto di vista sportivo e a portare la questione algerina nel mondo del fronte di liberazione nazionale, di cui ho parlato e parlerò ancora in futuro. Eugiani fu tra i primi convocati delle prime uscite della nazionale algerina, realizzando anche con le colpi del deserto alcuni gol. Eugiani fu molto fiero di rappresentare il suo paese natale, tanto che non gioca mai per la nazionale francese, nonostante avesse avuto l'opportunità, visto che era uno dei migliori attaccanti in ambito nazionale, ma decise di giocare per l'Algeria non appena gli fu possibile. Se ti piacciono i miei video e i miei racconti, seguimi sia qui che iscriviti al mio canale YouTube e poi seguirmi su Facebook i racconti del Caffo. Ci vedo al prossimo video, ciao!